Amici carissimi, è sempre un vero piacere ritrovare la vostra compagnia e oggi tutti pronti all'azione con il caldissimo appuntamento e le grandi opportunità di Luciano Moto. Da sempre il vostro punto di riferimento da oltre 35 anni con sconti, promozioni e offerte tipiche di Luciano Moto, tipiche dell'estate, attenzione, offerte limitate. Tutto questo a Casa al Grasso, l'indirizzo ce lo ricorda Denis Defina. Ciao, ben ritrovato. Ciao Palma, un ben trovato a te e un ben trovato a tutti. Ricordo che siamo a Casa al Grasso, sulla statale che collega Torino a Saluzzo, siamo facilmente raggiungibili uscendo dalla tangenziale alla loggia o dall'autostrada a Carmagnola. Vi dirò di più, Luciano Moto quest'estate è sempre disponibile per voi, solo 4 giorni di chiusura dal 13 al 17 e questo con l'unico obiettivo di farvi tornare a casa con il prodotto giusto, alle condizioni di mercato giuste ed acquistare sempre con le formule innovative tipiche di Luciano Moto. Certo, direi le condizioni migliori più che le condizioni giuste. Siamo a vostra disposizione per permutarvi l'auto, la moto, la microvettura, il quad, qualsiasi tipo di permuta qui da Luciano Moto, purché ci presentiate un prodotto sano e certificato, è ben accetta e ben disponibile a ritiro. Veniteci a trovare, ricordo che abbiamo anche diversi prodotti particolari come camper, caravan, qualche piccola imbarcazione, da Luciano Moto c'è davvero un po' di tutto, c'è l'imbarazzo della scelta per meglio dire, il sito lucianomoto.com può essere già un ottimo punto di riferimento per poter andare a capire ciò che abbiamo disponibile, avete tantissime opzioni nel motore di ricerca e sicuramente troveremo il prodotto o la soluzione che fa più al caso vostro. Tra le altre opportunità vi ricordo che Luciano Moto dal 2016 è concessionario ufficiale Kawasaki, questo vuol dire trovare tutti i prodotti della gamma in pronta consegna, in tutte le cilindrate e colorazioni e per tutti i gusti, sia che siate amanti della pista, della strada o del fuoristrada, Luciano Moto è in grado di procurarvi il prodotto giusto che fa per voi, non solo per il brand Kawasaki ma per l'intero assortimento di moto. Vero, Kawasaki offre l'opportunità di far avvicinare al mondo delle due ruote sia l'inesperto, sia il neopatentato che addirittura il pistaiolo, la persona che ha moltissima esperienza, offre una gamma di prodotti altissima, di altissima qualità e soprattutto con moltissime varianti. Non resta che venirci a trovare e direi che per una questione di tempo conviene passare al piazzale per poter vedere le nostre occasioni a quattro ruote firmate Luciano Moto. Quale modo migliore di aprire se non con un'offerta strepitosa? Partendo da uno splendido Renegade 1.6 turbodiesel, si parla di una Jeep con soli 30.000 km ufficiale, un anno e mezzo di vita a un prezzo strepitoso. Si sa che nel periodo estivo tutti i fuoristrada si comprano in modo ottimo e ha delle cifre ottime. Qui da Luciano Moto comprate tutto bene tutto l'anno ma in particolare questo è il periodo per i fuoristrada. Passiamo a uno splendido SUV di casa Ford, si parla di un Kuga, si parla di un 2.000 turbodiesel da 163 cavalli, un prodotto pari al nuovo con soli 60.000 km, unico proprietario, allestimento full optional. Altrettanto full optional con tetto panoramico, navigatore, addirittura 7 posti con trazione integrale, uno splendido Nissan Qashqai più 2, anno 2009 con pochissimi chilometri. Tagliandato e certificato, ci spostiamo su un altro SUV importante, si parla di un Cayenne di casa Porsche, un 4.500 S con delle spese ridotte perché con l'opportunità di fare un GPL. Pochissimi chilometri, anche qua tutti certificati da casa madre, la macchina è pari al nuovo ed è disponibile a qualsiasi tipo di prova e di riscontro. Prezzo formidabile. Ci spostiamo poi su due fuoristrada americani, si parla di un Dodge doppia cabina con copertura per il cassone, pochissimi chilometri, motorizzato 5,7 emi, davvero una bestia nell'ambito dei pick up. E ci spostiamo su un GMC per chiudere, un prodotto dell'89, già iscritto ASI, vettura con moltissime agevolazioni, gommata nuovo e con il cambio appena revisionato. Non solo fuoristrada qui dall'Oceanomoto ma anche degli splendidi buggy, uno tra i tanti è questo splendido 1100 di cilindrata sul quale Palma si è accomodata, si parla di un motore 16 valvole, trazione 2 e 4 ruote motrici, acquistabile a un prezzo fenomenale, eventualmente anche con operazione 50%. Mi collego al fatto che non abbiamo solo auto, fuoristrada e buggy ma abbiamo anche moltissime microvetture nuove usate a vostra disposizione, rappresentiamo i migliori marchi tra i quali Aixam e Chatenet per il nuovo, abbiamo multimarca, un'esposizione per quanto riguarda l'usato, ricordo garanzia dai 12 ai 24 mesi a seconda dell'anzianità del prodotto. Enrico nel frattempo sta mandando qualche insert, siete liberi di poter andare a visionare anche sul sito tutti i nostri prodotti a vostra disposizione e per qualsiasi altra indicazione chiamateci, saremo ben lieti di darvi tutte le delucidazioni del caso prima di accogliervi in sede. Siamo partiti dai fuoristrada, ora tocca alle vetture cabrio, partiamo con uno splendido 330 diesel con cambio automatico, si parla di un allestimento futura davvero full optional, ottime le condizioni, 12 mesi di garanzia su motore, cambio e turbina, qua da Luciano Moto si parla di garanzia completa, passiamo a due prodotti molto più particolari, due Boxster, un 3 e 4 S di nuova generazione, un 2 e 7 automatico in splendide condizioni generali, tagliandato garantito con soli 80.000 km certificati e terminiamo la carrellata su una splendida Lotus, si parla di un Elise, una 111R in edizione limitata, soli 30.000 km, unico proprietario e abbiamo l'opportunità ancora di offrirvi molti altri cabrio d'epoca e non, venendoci a trovare in sede, tutti a vostra disposizione a prezzi fenomenali. Non solo vetture particolari qui da Luciano Moto ma anche vetture classiche per la famiglia, qua abbiamo una carrellata di 5 porte, partiamo da una splendida Daiatsu Materia, un prodotto pari al nuovo, unico proprietario con soli 50.000 km, 1.500 la cilindrata con l'opportunità di installare un impianto GPL, ci spostiamo poi su una vettura 1.200 turbodiesel, si parla di una Volkswagen Polo, unico proprietario anche questa, al di sotto dei 50.000 km, tagliandata garantita, ancora in garanzia ufficiale per l'esattezza, sempre di casa Volkswagen, una splendida Volkswagen Golf, si parla di una 1.400 160 CV turbo benzina, allestimento E-Line davvero full optional, tagliandata garantita e con dei costi di gestione davvero minimi, visto la bassissima cilindrata. Ci spostiamo poi su una 5 porte italiana, si parla di Giulietta, si parla di una motorizzazione 2.000 turbodiesel, per la precisione un JTDM da 170 CV, allestimento full optional, tagliandata garantita e permutabile col vostro usato, come dicevamo prima, anche eventualmente di valore superiore, non è un problema darvi la differenza qualora il vostro veicolo o i vostri veicoli valgano di più. Continuiamo su una Citroen C4, un 1.600 cilindrata, allestimento esclusivo, anche questa full optional, unico proprietario e con pochissimi chilometri. Torniamo su un'italiana, si parla di Fiat, una splendida Bravo 1.900 turbodiesel, con pochissimi chilometri e la manutenzione è già completamente eseguita. E terminiamo la carrellata delle turbodiesel 5 porte, con una splendida Opel Astra 1.700 turbodiesel, si parla di un prodotto unico proprietario, anno 2.900, pochissimi chilometri, allestimento Cosmo. Quindi anche qua si parla di un prodotto full optional. Continuiamo su delle smart, ricordo che ne abbiamo un po' di tutti gli anni i modelli, queste in particolare si parla di 700 di cilindrata, tutte e tre in allestimento Passion, automatiche e sequenziali, a partire da 3.200 euro. Non sono finite le smart, abbiamo anche una 4.4 1.300 con impianto GPL, si parla di un prodotto con soli 63.000 km, con impianto GPL, bassissimi costi di gestione, 5 posti, 4 porte e con l'opportunità di avere dei costi veramente minimi. Sempre 5 porte idonei per la famiglia, una splendida Seat Altea 1.9 turbodiesel e terminiamo la carrellata con una Skoda Octavia del 2013, unico proprietario 1.6 di cilindrata, ovviamente nuovissime motorizzazioni, con cambio automatico DSG a 6 rapporti, navigatore satellitare, cerchi in lega, barre sul tetto e tantissimi altri accessori. Tra i tantissimi prodotti qui da Luciano Moto troviamo anche due splendidi veicoli commerciali, si parla di una Panda 1.100 di cilindrata, una splendida appunto 1.300 multijet, due prodotti ovviamente van con dei bassissimi costi di gestione, ricordo che abbiamo dei furgoni sia classici che 6 posti, abbiamo dei camper, dei motorhome, tutti prodotti molto economici, permutabili con le vostre auto e con le vostre moto e ricordo che da Luciano Moto ci sono anche moltissime vetture da città, l'esempio è questa splendida Smart per poter partire, continuiamo con 500 di diversi anni e colori, Lancia Ypsilon, Ford Ka, abbiamo anche dei prodotti più economici, si parla di 600, si parla di Twingo, tutti tagliandati e garantiti, venite a scoprire i prezzi qui da Luciano Moto. Mancava ancora la carrellata dei prodotti sportivi, prodotti per i quali diventiamo matti, abbiamo da potervi proporre una splendida Audi S3 in condizioni stratosferiche, oltre 350 cavalli, veramente da venire a scoprire in sede, soli 70.000 chilometri certificati in condizioni ottime, questa merita venirla a vedere davvero. Continuiamo su Audi, si parla sempre di A3, si parla però di un prodotto 2000 turbo diesel con cambio automatico DSG al volante, si parla di un prodotto con pochissimi chilometri, versione full optional, continuiamo con una sportiva, si parla di un T5 di casa Volvo, un prodotto turbo benzina da 230 cavalli, formidabile, soli 40.000 chilometri certificati, altrettanto pochi chilometri di questa splendida Clio RS, un prodotto particolarissimo, soli 65.000 chilometri, allestimento full optional, introvabile, navigatore satellitare, interno in pelle, sensori parcheggio, fendi nebbia, climatizzatore automatico, chi più ne ha più ne metta, davvero di tutto per questa Clio, in condizioni da vetrina, pari al nuovo, mai elaborata, totalmente originale. Ci spostiamo su Volkswagen, continuiamo con un'altra splendida, piccola bomba di casa Volkswagen, un Apollo 1.4 turbo, si parla di una versione GTI con cambio automatico DSG, climatizzatore automatico, fendi nebbia, tetto apribile, davvero tanti accessori anche qui, unico proprietario, con un anno di garanzia totale. Ford si è proposta benissimo negli ultimi anni, con una splendida piccolina, si parla di Fiesta, si parla di un 1.6 turbo, in particolare denominato ST, un prodotto veramente in condizioni pari al nuovo, anche qua, soli 40.000 km, da venire a scoprire in sede, è rigorosamente originale. Ci spostiamo su due Abarth, una prima cabrio, con pochissimi chilometri, già restyling, solo 7.000 km, per la precisione, con cambio manuale, comandi al volante, climatizzatore automatico, sensori parcheggio, davvero tanti altri accessori, sempre con cambio manuale, anche la versione coupé, anche qui, cambio automatico, white stripes, specchi bianchi, cerchi da 17, volante in pelle, e tanti altri accessori. Tutte macchine tagliandate, garantite e permutabili col vostro usato. Continuiamo la carrellata, con una splendida mini Cooper S, un allestimento Cili, tutti particolari in tinta, interno in pelle, cerchi a 17, clima automatico, unico proprietario, con moltissimi lavori appena eseguiti, una splendida Mito, in edizione limitata, Superbike, 1.3 la cilindrata, 85 cavalli, quindi già motorizzazione, restyling di casa Alfa Romeo, davvero impeccabile, e ricordo in edizione limitata. Continuiamo su Alfa Romeo, su una 147, 1.6 Twin Spark, allestimento Black Line, ottime le condizioni, e per di più con impianto GPL, 1.6 la cilindrata. Terminiamo su un'ultima vettura, sempre in allestimento sportivo, si parla di una Seati Biza, in allestimento Cupra, anche questa con impianto GPL, bassissimo il costo d'acquisto, e bassissimi i costi di gestione. Luciano Moto, amici, un nome, una garanzia ormai storica, sul mercato delle auto e delle moto, un nome che fa la differenza, infatti, di scelta, qualità e convenienza, una convenienza che raddoppia, per l'estate, ma attenzione, promozioni e offerte, limitate al periodo, ed è per questo, che Luciano Moto, rimane aperto anche d'agosto, con soli 4 giorni di chiusura. Assolutamente sì, ricordo la chiusura, è dal 13 al 17 di agosto, vi aspettiamo numerosi, siamo aperti a qualsiasi sorta di trattativa, purché con prodotti sani e non incidentati, non resta che venirci a trovare, sicuramente soddisferemo le vostre esigenze. Io ringrazio Denis per l'ospitalità, alla prossima, buon'estate. Grazie a te, buone vacanze a tutti, e vi aspettiamo numerosi. Buone vacanze, anche a voi che ci seguite sempre con attenzione, e come sempre, linea alla regia. Grazie a tutti.